progressi straordinari sono stati fatti nel campo dell'oculistica con una chirurgia sempre più precisa e meno invasiva è stato inaugurato a roma il nuovo centro clio clinica oculistica la più grande clinica oftalmica privata d'italia dotata delle migliori tecnologie di ultima generazione clio nasce da un sogno io sono 30 anni che sono nel settore dell'oftalmologia e la mia idea guida è stata quella di realizzare una struttura dove tanti professionisti potessero lavorare l'uno vicino all'altro offrendo loro il massimo della tecnologia attraverso degli investimenti di attrezzature di personale altamente qualificato in maniera da poter comunque offrire a tutti i loro pazienti il meglio delle cure e ovviamente loro stessi come il meglio della medicina l'evento di inaugurazione ha richiamato a professionalità da tutta italia clio clinica oculistica diventerà un centro d'eccellenza della chirurgia oculistica un unicum in italia a livello privato con pochissimi esempi simili solo in spagna e francia abbiamo organizzato gli spazi con 6 piani 5 sale operatorie per cataratta operazioni di stacco di retina di rifrattiva e 20 ambulatori tutti destinati a professionisti di primissimo livello oltre poi ad avere sala congressi per aggiornamenti con case farmaceutiche o semplicemente incontri tra professionisti per interscambio di terapie mediche e di innovazione un'area molto importante di clio clinica oculistica sarà dedicata dai prossimi mesi anche alla cura degli occhi del mondo pediatrico un'iniziativa che abbiamo denominato clio è uno spazio dedicato ai bambini dove professionisti del settore specializzati in visite per bambini visiteranno all'interno di clio fatta eccezione per un'eccellenza a roma che è il bambin gesù non ci sono cliniche private organizzate con spazi importanti per bambini e quindi questa riteniamo che sia una delle priorità su cui lavorare la salute dei pazienti e il benessere dei loro occhi al centro di clio clinica oculistica a breve sono previsti nuovi importanti obiettivi permettevi di anticiparvi anche un'iniziativa che stiamo cercando di inaugurare tra ottobre novembre che è quella di un primo soccorso oculistico una città come roma oggi ha soltanto l'ospedale oftalmico ospedale pubblico per questo tipo diciamo di urgenze ecco la nostra iniziativa è proprio quella di offrire uno spazio a tutte quelle che sono le prime necessità oculistiche che si possono verificare durante la giornata per persone che hanno magari piccoli o grandi problemi oculistici credo che questo sia un servizio particolarmente utile per la città ma soltanto in supporto a il servizio pubblico anche per gli interventi di chirurgia oculistica si verifica sempre più carenza di disponibilità nelle strutture pubbliche l'apertura di clio clinica oculistica rappresenterà un punto di riferimento su roma in non solo per i migliori professionisti oftalmici e per i pazienti grazie alla dotazione di tecnologie all'avanguardia